Buonasera a tutti, benvenuti e buon anno. Mi riferisco con il buon anno, a prescindere da quello che è un augurio per il 2016, anche a quanto accaduto durante la notte di Capodanno invece presso la RAI TV, ovvero a quello che è stato un pasticciaccio che ancora oggi in RAI ha creato discussioni e che si è caratterizzato per una serie di situazioni piuttosto tristi, piuttosto difficili, piuttosto prevedibili, ma non in questo caso previste ed organizzate e adeguatamente rintuzzate. Il countdown del 2015-inizio 2016 è iniziato un minuto prima sui programmi di RAI 1. Vi sono stati i festeggiamenti, gli auguri, le feste e questo anticipando di un minuto quello che invece sarebbe stato poi il botto con lo champagne e gli auguri di rito. Allo stesso modo sono corse in sovrimpressione su quella che è lo schermo televisivo una serie di messaggi. Uno addirittura ha anticipato il finale di un film che va per la maggiore in questo momento che è Star Wars, annunciando bellamente un finale così, tutto da vedere, ma in realtà già elargito con questo messaggio dove si dice che il protagonista puntini puntini. Al di là di questo, altro fatto di cui si discuterà anche questa sera, è una bestemmia pesante in TV via SMS che un ragazzo per mille motivi, tutti sbagliati evidentemente, ha pensato bene di mandare via SMS presso la sede RAI e qualcun altro invece preposto a una tutela ha pensato male di non controllare, di non verificare, di lasciar passare in sovrimpressione. Di modo che questa bestemmia pesante e ripetuta in SMS ha coronato l'inizio del nuovo anno di fronte a tutti gli italiani che sono rimasti assolutamente sbalorditi ed allibiti. Ancora più della Santa Sede, immaginiamo quelle che sono state subito le reprimende dell'osservatore romano ed il mal di pancia venuto negli studi di Viale Mazzini dove a catena sono iniziate una serie di ricerche, una serie di reprimende sino ad arrivare all'ultimo responsabile che pare sia stato sospeso dal suo ruolo. Fatto che non doveva proprio capitare in una TV di Stato che già dal 2016 ci obbligherà a pagare la bolletta con la bolletta della luce un canone RAI che spesso qualcuno paga, qualcun altro non paga o non vuole pagare o pensa di pagare in qualche modo. Quindi siamo obbligati a pagare e va bene, pagheremo, però non siamo certamente obbligati a godere di uno spettacolo di questa natura, di questa fatta veramente disdicevole. Altro fatto che poi ha comunque contribuito a creare anche una situazione diversa sono stati alcuni quotidiani nazionali che hanno intervistato questo ragazzo che è diventato praticamente anche famoso perché ci racconta che aveva litigato con la sua ragazza o che comunque era nervoso perché gli era saltata la serata del 31 dicembre con gli amici o da ancora che il suo cane un pastore tedesco si era spaventato per i fuochi ed ancora che considerava comunque normale essendo ateo come intercalare dire o scrivere in questo caso delle bestemmie che si è stupito lui stesso del fatto che nessuno così si fosse accorto di questo sms ingiurioso e blasfemo ovviamente per la bestemmia contenuta in esso. Ancora si è parlato di questo ragazzo come uno studente di un liceo, come un appassionato di scienze motorie, come un chitarrista metal in un circuito musicale della propria regione con la madre, il padre, lauree o comunque una vita sociale che francamente poco poteva interessarci così come poco poteva interessare quella che è stata la ricerca appunto della vita privata di questa persona che ha sbagliato della quale ci interessa francamente poco conoscere anche il motivo dello sbaglio è sicuramente un errore inqualificabile però lo ripeto è un errore inqualificabile anche da parte della RAI quello di aver permesso che un fatto di questo genere fosse potuto capitare proprio per la serata di fine anno sul web sono tante i commenti o comunque le notizie o comunque gli approfondimenti siamo arrivati a parlare ma allora era già successo anche in Italia con quel Gesù bambino appeso per il collo e trovato in una cittadina e qui si parlava di un fatto, di una cretinata ma che poteva invece in realtà essere qualcosa di più grave e allora si dice ma perché anche un personaggio di questo tipo che ha bestemmiato e che non se ne è pentito e che si è messo a sorridere e che comunque quello che volete voi per quale motivo intervistarlo e rendere pubblica anche la sua vita e comunque dare luogo anche ad una serie di bravo, hai fatto bene, siamo tutti con te magari su Facebook eccetera eccetera da ultimo tanti dicono beh qui siamo a parlare di bestemmie, siamo a parlare di divinità figuriamoci fosse capitato in un paese islamico un fatto del genere che cosa sarebbe successo e potuto capitare ai responsabili abbiamo iniziato il 2016 con il botto vedremo quello che ne seguirà grazie grazie